Conta la rovescia, al suono è valido eh? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 La rovescia, al suono è valido eh? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, pit stop per la Leighton House di Mauro Buomo. Escolpi. Pit stop anche per la Williams, per il Timass. No, macchina, macchina. Entra a pit stop una Sauber. Chi è? Di Gaetano, ok. La seconda Sauber con Cimarello, seguita dalla McLaren. Il ruvetto, Tancioni con la McLaren. Uscita corretta per entrambi, bravi. Pit stop per Neangeris con la Lotus Camel. E pit stop per la Lotus Camel, anche di Marco Sarra. Pit stop per Barberico, la Renault. Pit stop per la McLaren Marvolo di Manuel Ponti. Pit stop per la Escatello, per la Escatello. Seguito da Alberto, Giorgio con la seconda Escatello. Morgagni Davide che partiva ultimo. Con la Renault. Tengi Vistaglio con la Lotus Camel. Tico sempre per la Giorga. Silenzio di un palco. La cazzo è uscita. Vai, 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 Giorga, vai. Vai, vai, vai. Adesso abbiamo Morgagni con la Renault al secondo posto. Si è fermato adesso con il suo pit. Giorgio Alberto è passato al terzo posto. De Angelis con il quarto con la Lotus Camel. Manuel Ponti con la McLaren Marvolo quinto. Sarra sesto con la seconda Lotus. Poi abbiamo Piovo con l'Econ House. Barberi Renault. Di Gaetano con Sauber. Urbani Williams. Bonfatti Ass. Nigo Santi Jordan. De Vincentis. Benetton. Scimarello Sauber. Tancioni. McLaren Honda. Tutte le auto hanno fatto il primo pit stop. Quindi pit lane chiusa. Mi raccomando ragazzi. Quando è entrato ai Cox un po' di strategia. Se è entrato tutti insieme perdeva un sacco di tempo. Siamo a 5 minuti e 40 di gara. Mancano ancora 10 al termine. 10 e 20 quasi. Al comando Giorgio Alberto con la Esket. Seguito da Manciotti con la seconda Esket. Morgannico Renault. De Angelis con la Lotus. Camel. Folti con la McLaren. Sarra Lotus Cameri. Promo. Leiton House. Barberi. Renault. Urbani Williams. Bonfatti Ass. Di Gaetano. Scusa. Sauber. Nigo Santi Jordan. Scimarello Sauber. De Vincentis. Benetton. Tancioni. McLaren Honda. Ancora lunghissima. 9 minuti e 40 al termine. Silenzio del palco. Biodi più lenti devono lasciar passare i piloti più veloci. Ma anche i piloti più veloci non devono sapere aspettare per passare un doppiato. Altrimenti diventa una gara soltanto per i primi tre. Ognuno combatte per la propria posizione nella massima correttezza. L'errore può capitare ai più bravi e ai meno bravi. Se siete qui a fare il Gran Premio siete sicuramente i 16 più bravi. Quindi regolatevi di conseguenza. O i peggiori potrebbe essere. Predizioni. Giorgio Albert al comando. Seguito da Colescat. Seguito da De Angelis con la Lotus Camer. Poi abbiamo Morganni con la Renault. Marciocchi con la seconda Escat. Folti con la McLaren Malboro. Sarda con la seconda Lotus. Cuomo con la Redonaus. Williams per Urbani al sottavo posto. Barberi Renault. Nico Santi Jordan. Bonfatti Ass. Di Gaetano Sauta. De Vincentis Benetton. Scima dello Sauta. E Tancioni Mecclaren Honda. Fitt. Fitt. E Sarva. De Vincentis. Tancioni. Questo qui è? Di Gaetano. Di Gaetano. Williamo sedia in Bani. Grazie. Ok. 7 minuti alla fine Mauro Cuomo 6 minuti al termine 6 minuti al termine 7 minuti al termine 5 minuti alla fine 15 secondi dal primo e il secondo e 7 secondi dal secondo e il terzo 6 minuti al termine 6 minuti al termine 4 minuti alla fine 6 minuti al termine 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 Fonti con la McLaren Malboro, Sarra Lotus Camer, Urbani Williams, Cuomo, Leiton House, Barberi, Renault, Bonfatti Ass, Nico Santi Jordan, Dicatano Sauber, Tevincenzi Spenetton, Tancioni, McLarenonda, Ciparello, Sauber. Una gara tra Cuomo e Urbani sono per la posizione, per la settima e ottava posizione, con la Williams e la Leiton House, sono in bagarre tra loro. Seguiti poi anche da Barberi, con la Renault, un po' più distanziato ma comunque è lì, però. Un minuto alla fine. Posizioni al vertice invariate, Giorgio con la Eschetta, seguito da Manciotti con la seconda Eschetta, e Morgani con la Renault, e Andri, Scorro, Buscamel, Ponti con la McLaren Malboro. Silenzio sul palco. 30 secondi alla fine. Silenzio sul palco. posizioni Giorgio, Manciotti, Morgagni, Fonti, Sarra, De Angelis, Urbani, Cuomo, Nicosanti, Barberi, Bonfatti, Di Gaetano, De Vicenti, Staccione, Cimarello Mi manca solo i cancioni sui trasporti, ok? Tutti l'auto stoppato, è più terminato